L'appuntamento quest'anno è il 24 e il 25 agosto, sempre a Pollina. Quest'anno abbiamo una programmazione che appunto si spalma sui due giorni e il festival fondamentalmente si divide in due parti. La parte pomeridiana che è dedicata più al teatro di strada e invece poi c'è la parte serale e ci spostiamo tutti quanti nel Teatro Pietarosa dove ci sarà una compagnia di circo contemporaneo. La compagnia si chiama Circo Centric con lo spettacolo Respir. È uno spettacolo veramente molto bello, l'abbiamo già avuto al festival ma quest'anno lo riospitiamo in una nuova versione arricchita con musica dal vivo e siamo veramente molto contenti. Quanti artisti saranno impegnati? La programmazione vede coinvolti, se non ricordo male, otto compagnie tra teatro di strada, musica e circo contemporaneo. Il circo in questi ultimi anni ha ancora più successo rispetto al passato, vive una nuova storia. Qual è la tradizione in Sicilia? Questi 15 anni abbiamo visto veramente un nascere di nuove realtà che si occupano di circo sia da un punto di vista di formazione ma anche da un punto di vista proprio di proposta artistica. Quindi il numero dei festival si è moltiplicato, sono tante le realtà che sono nate su tutto il territorio siciliano, quindi non solamente in questa parte occidentale, diciamo così e quest'anno, come anche gli altri anni, ma quest'anno sono nate nuove collaborazioni con altri festival, infatti quest'anno collaboriamo con il Novarea Festival che è un festival di teatro, musica e quest'anno c'è anche la parte di teatro di strada che si svolgerà dal 18 al 21 a Novarea di Sicilia e poi collaboriamo anche con Urra Festival, un mini festival, quest'anno alla sua seconda edizione, che si svolge invece da tutt'altra parte e stiamo a Partanna, provincia di Trapani.